Appena arrivate, subito ritirate dalle stazioni per lievi alterazioni e telai. Clear Channel fa retromarcia sulle nuove biciclette che avrebbero dovuto svecchiare la flotta di BikeMe e migliorare il servizio. I mezzi, attesi da tempo, sono comparsi nelle rastrelliere milanesi da poche settimane. Le 700 elettriche di nuova generazione hanno fatto la loro comparsa il 2 dicembre, le 500 tradizionali dal 15 dicembre. Ma la società ha dato ordine ai suoi addetti di recuperare e riportarle tutte in deposito il 12 gennaio per tutelare gli utenti ed evitare rischi. Parte dei telai, dopo meno di un mese di utilizzo, ha lievi alterazioni della struttura, spiegano da Clear Channel. Il problema riguarda una minima parte della flotta, sia delle tradizionali sia delle elettriche. Secondo altre segnalazioni raccolte, il difetto è invece molto più diffuso. Le nuove e-bike hanno anche disguidi nel funzionamento del motore che assiste la pedalata in base alle osservazioni fatte da alcuni utenti. Di fronte a queste difficoltà e per evitare di compromettere la sicurezza del ciclista, l'azienda ha scelto di ritirare in blocco le due ruote neo arrivate e di mettere nelle rastrelliere le vecchie bici.